Aia, 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 chi riesce a mettersi meglio, alzi la mano, certo è vano, provare e riprovare la posa migliore, senza un cuscino che ti porti a migliorare, e uno specchio che ti impedisca di strafare, strafare. Certo vorrei una bella donna che mi insegnasse tutte le più grandi cose per arrivare, arrivare a lei. Lei, per finir, lei è così, e sarebbe poi un visir. Quanto ha bisogno di divertimento, quanto ha bisogno di poesie destro, quanto, quanto, quanto. Oh yeah, oh yeah.